Sembrava vicino il giorno in cui saremmo passati a zona gialla, invece adesso appare esserci una frenata proprio dal governatore siciliano Nello Musumeci. Se fino l'altro ieri dava quasi per certo che per San Valentino avremmo potuto cambiare i colori di zona, oggi arriva la conferma che non siamo ancora pronti per il fatidico passaggio. Siamo e dobbiamo essere in zona arancione, commenta Musumeci, perché i numeri non sono assolutamente confortanti, aspettiamo i dati di venerdì prossimo. Nel report quotidiano diffuso ieri pomeriggio dal Ministero della Salute, i nuovi positivi nell'isola sono stati nelle ultime 24 ore e 744. Erano 1954 il 16 gennaio quando l'isola diventò zona rossa. A tenere in ansia sono i primi casi di variante. Per quanto riguarda la variante africana, attendiamo le analisi che dovrebbero arrivare dopo domani, aggiunto il presidente della regione. Per quanto riguarda la variante inglese, tre possibili casi e nessuno dei tre risulta a momento essere grave, ma a prescindere da ciò non sottovalutiamo nulla. Per quanto riguarda la situazione iblea, invece, giarratana torna ad essere città covid-free. La piccola cittadina montana lo era stata a fine anno, ma poi a partire dal 6 gennaio ha dovuto rifare i conti con i residenti risultati positivi al covid. Unica pecca dell'ultimo bollettino relativo alla giornata di ieri e lunedì riguarda due decessi di persone positive al covid. Si tratta di due anziani di 83 e 87 anni deceduti a Ragusa al Giovanni Paolo II. Sono 7267 le persone ragusane guarite dal covid dall'inizio della pandemia.